Non dormivo, una notte deletante, e così ho iniziato a cercare qualcuno che mi potesse aiutare. SOS Vita, un servizio gratuito gestito da volontari specializzati che da 30 anni ascoltano e sostengono donne e coppie davanti a una gravidanza difficile, inattesa oppure indesiderata. SOS è una presenza sicura e un aiuto concreto, una mano, tesa, che accompagna anche nei momenti più oscuri. Puoi aiutarci ad aiutare. Sostieni SOS Vita. Ho trovato ascolto. Mi sono sentita accolta, sollevata. SOS Vita.